Bene, gioca! Sì, buono! Eh, eh, si va! Eh! Good, good! Sì! Eh! Sì! Good! Sì! Dai, 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 l'ultimo! Buono, raga! Stesso principio, eh! Due tocchi si può alzare! Gioca! Sì, sì, sì! Guarda che è stretto, eh! È stretto! Muoviamoci! Muoviamoci! Sì, sì, sì! Solo, solo! Sì! Eh! Eh! Corso! Sì, buono! Buona, gioca! Gioca! Eh! Ebra! Bravo! Tretto, occhi due minuti! Gioca! Sì, salta! Sì, salobi! Sì, salobi! Sì, salobi! Guarda! Guarda! 1-0! Buono! Gioca a Ibra! Da lì! Guarda! 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 Ferma! Fermala! Buono, bravo, bravo! Gioca, gioca nena! Brava! Prova Inter Channel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Inter Channel e poi scegli Sky liberi di...